Come comporre un tuo programma nutrizionale ideale? Ciao, sono Silvia Santinato, punto di riferimento per la nutrizione e il benessere della donna in premenopausa e menopausa. Oggi ti voglio parlare di come comporre un programma nutrizionale ideale per te. Innanzitutto devono esserci alimenti che ti soddisfano, che ti piacciono, che ti diano soddisfazione, perché altrimenti il tutto andrà a decadere. Se non hai alimenti che ti piacciono, sicuramente questo sarà uno dei motivi dei fallimenti. Un'altra situazione per costruire il tuo programma ideale, il tuo programma nutrizionale, che ti soddisfi, che tu lo possa portare avanti nel tempo, è quello di rispettare quello che sono i tuoi orari. Quello di rispettare i tuoi orari di lavoro, i tuoi orari familiari. In questo modo ti sarà molto semplice utilizzare tutti gli elementi e portarli avanti nel tempo. Pertanto vedi come cibo che ti piace, orari consoni alla tua vita quotidiana, alla tua giornata. Poi chiaramente deve esserci un'educazione. Pertanto dentro agli alimenti che ti piacciono, dentro a quello che sono i tuoi orari, deve esserci questa educazione. Questa educazione che è mirata proprio al tuo essere, ai tuoi orari. Però deve esserci un'educazione che ti aiuta proprio a come andare a digerire meglio, come andare a dormire meglio di notte. Pertanto vedi com'è semplice. Alla fine costruire un programma nutrizionale, basato su quello che sono le tue necessità, è molto semplice. E questo è quello che facciamo noi. Renderti proprio il tuo in menù, il tuo programma nutrizionale, molto molto semplice. Tanto se hai già provato da sola e stai ottenendo dei buoni risultati, io sono molto felice per te. Ma se non stai ottenendo dei risultati, noi siamo qui per aiutarti e per guidarti in tutto quello che è la scelta dei tuoi alimenti quotidiani, la scelta del tuo programma nutrizionale. Se vuoi sapere di più di cosa si tratta e vuoi iniziare un percorso di cambiamento nutrizionale, di benessere fisico, proprio di star bene con te stessa, di dormire meglio di notte, di perdere quei chili che da un po' di tempo ti stai portando dietro, lascia la tua candidatura che leggerò io personalmente e in seguito se sarai ritenuta idonea a seguire un percorso nutrizionale con noi, un membro del mio team ti contatterà in modo da poter iniziare insieme il tuo percorso di cambiamento nutrizionale. A presto!